La collezione Frutta e Fiori è nata dalla decennale e continua ricerca di ingredienti italiani unici che diano personalità al panettone Loison. Per questo ricercato packaging, Sonia si è dedicata per mesi e mesi a studi certosini presso biblioteche nazionali e internazionali, alla ricerca di tavole botaniche, da 700 fino ai giorni nostri, disegnate a mano da artisti esperti in botanica. Sonia Pilla ha ripreso alcuni dettagli di frutta, foglie e fiori e li ha adagiati in un contesto bucolico su un prezioso incarto tintavorio rosato, colore coniato appositamente per questa nuova collezione. Per sigillo, una preziosa barretta in metallo dorato, su cui è inciso il marchio Loison, che trattiene l'etichetta esplicativa, dove è riportato l'anno di nascita del gusto proposto nel panettone. Grazie a tutti.